Claudio Magris, ben trovato. Triestino, maestro di letteratura e anche di coscienza civile, perché lei è stato senatore? Sì, sono stato due anni senatore. Fugace parentesi in cui stavo un po' a disagio. Sì, ma per varie ragioni. Intanto perché è un periodo che ha coinciso per varie ragioni con un periodo più difficile della mia vita personale. Secondo perché io l'ho fatto con passione, ma l'ho fatto credendo e pensando per sott'ora di doverlo fare, ma l'ho fatto contro la mia natura. Poi ho fatto quello che potevo, devo dire che sono molto grato a questi due anni per quello che ho imparato, non metto affatto in conto le mie difficoltà personali e a quelle che sono le realtà oggettive della politica del Senato, non ti detesto chi attribuisce al mondo le proprie defiance. Però in compenso c'erano anche aspetti umoristici. Perché io ero formalmente, credo, un caso unico nella storia dei partiti del mondo, perché formalmente io al Senato rappresentavo un movimento di cui ero l'unico iscritto. Ti sei iscritto solo tu? Ero l'unico iscritto. Sono tu perché non ce la faccio a darti di lei. Ma certamente, ma ci diamo del tutto una vita, quindi figurati. E quindi figuravo nel Senato lista Magris, Trattino Magris. E quando c'era la crisi di governo, il Presidente della Repubblica, che allora era scalfo, doveva convocarmi, perché io di fatto lavoravo soprattutto col Partito Popolare e un po' meno, ma anche col PDS. Però lui doveva convocarmi perché nessuno è il mio capogruppo. Lista Magris, Trattino Magris. Io ero il mio capogruppo. Qui c'è stato l'aspetto piccare. Dicevo, tu sei soprattutto docente universitario. Sono stato. Beh, insomma, sei stato per tanto tempo, hai continuato a seguire i tuoi studenti per tanto tempo, editorialista del Corriere della Sera. Ogni tuo libro è il libro dell'anno, sempre. Candidato al Nobel mi sono dimenticata di dire. Ma che candidato? Sì, per la pace, per il mio buon carattere. Non lo so, però ogni volta che c'è il primo Nobel ti candidano. Sì, ma no, esiste le candidature. Sei in buona compagnia, se non te lo danno. No, quelli sono le scommesse. Qualcuno dei broker all'Ombra scommette. Questo e questo è lusinghiero, quindi sono maggiorato. Se fai vincere qualcuno, non esistono le candidature. Senti, questo, innanzitutto, scusa, tu sei nato il 9 o il 10 aprile. 10 aprile. Perché te lo chiedo e perché il tuo cane si chiama Jackson? Dunque, è per la stessa ragione, perché una volta, io sono nato il 10 aprile, quindi i miei genitori festeggiavano il mio compleanno il 10 aprile. E una volta, un giorno, io avevo 10-11 anni, ho chiesto, e a quanto mi dicevano i miei genitori, sembra con un tono molto retorico, che volevo, chiedevo che mi si festeggiasse il 9 aprile. E io ho detto perché? Perché il 9 aprile 1863 ad Appomattox, la vittoria dell'esercito nordista, nella guerra di secessione, San Cilla, liberazione dei schiavi neri. E il tuo cane si chiama Jackson? Si chiama Jackson, anzi gli devo la fame, perché una volta una signora, qualche volta succede che qualcuno mi chieda una firma, però una volta ero a Trieste, al mare, a Barcola, con questo Jackson, che è un griffoncino in Bruxelles, piccolo, e la signora mi si è avvicinata e mentre io banalmente credevo che mi chiedesse appunto, se io mi dicesse bravo, mi ha detto in Triestino, è il suo sto cane, è il suo questo cane, e gli ho detto sì, allora lei la dovrei essere Claudio Magris. Ti ha riconosciuto dal cane. Sì, come fosse io. Ho detto torinese di Trieste, forse avrei dovuto dire Triestino di Torino, è uguale? Sì, uguale. Forse, no? Sì, uguale. Due città sospese su un confine, due città molto provinciali o invece molto spalancate a quella che una volta era l'Europa doveva esserlo? Ma anzitutto, intanto per spiegare le cose, io sono andato a Trieste, ho vissuto a Trieste fino ai 18 anni, poi sono andato a Torino a studiare università dove poi più tardi ho insegnato all'università come professore e sono le due città della mia vita, io non scelgo fra le due, ho due figli, non è che scelgo uno piuttosto che l'altro e quando manco adesso da Torino ho crisi di estinenza se manco è lungo. Ma la domanda, dunque, intanto in quegli anni erano molto diverse e intanto non si può paragonare l'importanza, non dico nel passato, ma insomma soprattutto in quegli anni lì e anche adesso tra Torino e Trieste, mentre io studiavo in quei cinque anni, grossomodo quattro e mezzo, Torino tra il 57 e il 62, Torino raddoppiava la sua popolazione con l'emigrazione soprattutto dall'Italia meridionale con tutti i problemi che ricordano un po' le preoccupazioni, i rifiuti, i problemi che oggi succedono con altri emigranti. Mentre Trieste decadeva un pochino, quindi la grande apertura di Trieste era più un'apertura recuperata nel passato e nella riflessione. In compenso Trieste dava la libertà un po' gipsi, gitana, di vagabondare quel pensiero rispetto a Torino che produceva, che era il fare, Torino era la capitale, Italia era non solo il sorgimento, tutto nasceva lì, sì, il liberalismo moderno, il comunismo, il socialismo, la resistenza, tante cose, un po' Detroit, un po' Leningrado, come si diceva allora. Senti, non luogo a procedere, sempre Garzanti, è il tuo ultimo libro, non è possibile secondo me riassumere la trama in un breve spazio e poi non è il luogo di recensioni da televisione, dico solo che la storia di un'ossessione, dell'ossessione di un professore che vuole realizzare un museo della guerra, raccogliendo e metti cararmati armi di ogni tipo, dai fucili al più moderni, alle frecce, agli archi degli indigeni, naturalmente perché odia la guerra, ama la pace e vuole ricordare l'orrore, in questo modo diventa testimone di una verità scomoda e terribile e per questo muore in modo molto misterioso. Detto questo è molto poco perché è come una matriosca, ci sono tante, come nelle scatole, tante storie, ogni storia è un romanzo, è una polifonia di voci. Dunque il modello è veramente esistito, poi come è lecito fare nella letteratura, uno prende e poi inventa e scrive nulla di quello che ho detto. Però tu metti il dito dentro le ferite della storia recente. Allora, quello che mi affascinava in questo personaggio era intanto una parte, da un lato la sterilità, se vuoi, della sua mania, perché raccoglie le cose, oggetti, cararmati, mitragliatrici, bossoli, acidi che gli insetti secernano quando combattono altri insetti, eccetera, che notava anche una mescolanza, un sincero amore di pace, ma anche un'ossessione di guerra. E poi, quella è la storia che alla fine sembra, e qua io sviluppo, che tutto questo, che dà la mania, questa mania che è anche idolatrica, che è anche ossessiva, che è anche sterile, che ti prosciuga, si fosse messo a cercare qualcosa di molto più importante, cioè una verità. E cioè, cercando nella risiera una vecchia fabbrica di riso in cui, a Trieste, negli ultimi due anni della Seconda Guerra Mondiale, i nazisti avevano instaurato un forno crematorio, l'unico esistito in Italia, dove venivano naturalmente o spediti in Germania nei campi di esterminio, o uccisi sul posto e bruciati, appunto, antifascisti, italiani, slavi, ebrei, soprattutto, e così via. E quello che mi interessava era che, questa vaga idea che io poi sviluppo, che quest'uomo cercasse delle scritte che erano state poi imbiancate, cancellate, non di carnefici, perché si sa chi erano, non delle vittime, perché si sa chi erano, ma di quei complici passivi, in qualche modo che… Traditori, però. Sì, ma anche passivi, quello che Primo Levi chiamava la zona griglia, persone che magari non uccidono nessuno, ma non hanno problemi a frequentare assassini, insomma, che non hanno le mani insanguinate, ma che non hanno problemi a stringere le mani insanguinate. E' questo che mi mostro. Naturalmente la storia mi interessava, perché poi nel mio libro, questi oggetti diventano un po' come la lampada di Radino, che strofinata faceva apparire il Gin che racconta storie, quindi ogni oggetto racconta la storia di chi è morto con quell'arma, di chi è ucciso con quell'arma, si allarga tanti personaggi. È un romanzo tragico, però. Sì, però anche… E questo è il tuo sguardo più profondo, nonostante la scherzosità, la leggeretta… Però c'è anche perché il vero protagonista, e lo sento, è un personaggio totalmente inventato, che è una donna, Luisa. Che è l'altra voce narrante, no? Sì, che io immagino incaricata ad allestire, a portare a termine questo museo, è che immagino figlia di due esili, del galuto ebraico della Tratta, cioè di una ebrea triestina coinvolta anche in un modo molto torbido nella Shoah, e di un sergente afroamericano arrivato con un esercito alleato a Trieste nel 1945. In una nordica tammuriata nera. Sì, e là il discorso si allargava, a finire appunto alle origini di questa donna, le origini che sono, insomma, i due popoli che possono parlare di esilio e che entrambi possono dire come possiamo cantare le canzoni di Sion in terra straniera, eppure li hanno cantati proprio, gli ebrei e i neri con l'espirito. E poi si allarga a tutta una serie di storie, di personaggi in altri oceani, in altri mari. Senti, la guerra. Tutto un forte caraibico e creolo, ho anche imparato un po' di creolo per scrivere questo libro. Sì, si legge, non credevo fosse così simile al francese, cioè si può capire un pochetto. Qualcuno ha detto che in questo libro, lo iddici, il linguaggio ebreo-tedesco del mito d'Europa si incontra con il creolo, il franco-africano parlato a suo tempo dagli schiavi e dai loro padroni, quindi linguaggio di conflitto, ma poi anche di comunicazione, di unione. Questo è un mondo che ho frequentato abbastanza e quindi mi sono tuffato. Di fatto c'è un altro personaggio di cui racconto la storia, Luise Navarrete. Penso a una donna nera, libera del Cinquecento, sposata a un bianco, perché intendiamoci, la Spagna che faceva quello che faceva in quei paesi, in quelle colonie, però era lecito, anche se rarissimo, il matrimonio fra bianchi e neri. Quindi avevano l'anima per loro. Cosa che negli Stati Uniti è arrivata... Trecento anni dopo. No, è più, parecchi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questa donna, che fu rapita dai Caraibi, forse disse come sposa o schiava del capo dei Caraibi, forse compri di scoreria, insomma alla fine scappa, torna a casa e viene processata dalle inquisizioni. E lì, con incredibile genialità, tre nere erano state bruciate per stregoneria, sospetto di commercio carnale col diavolo, idolatria, eccetera. E lei gioca mirabilmente la parte della donna passiva, sottomessa. Insomma, alla fine vince lei e viene restituita, mujer de raison, proprio pienamente onorata, e torna a vivere con marito bianco. E io ho visto, e ce l'ha stato un momento emotivo forse più forte, ho visto i verbali del suo interrogatorio. Quando sei messa con le spalle al muro, e allora l'invenzione è necessaria perché è un modo di restituire a questa persona quello che lei non ha avuto, o che non si è saputo, o che è andato perso. In questo senso, la famosa tesi di Manzoni, lo storico accerta i fatti e la letteratura cerca di capire come gli uomini li hanno vissuti. Senti, è un romanzo sulla storia, sulla storia che ritorna e potrebbe insegnare, penso al razzismo, anche alla ferocia di cui siamo testimoni oggi. È un romanzo anche sulla guerra e anche qui siamo di nuovo in tempo di guerra. Qualche volta la guerra però bisogna farla. Dunque, intanto siamo, non nella terza come si dice, ma siamo nella quarta guerra mondiale. La terza c'è stata, ha vinto l'Occidente e ha perso il mondo sovietico. La cosiddetta guerra fredda. La cosiddetta guerra fredda che ha avuto, badiamoci, 45 milioni di morti fra il 1945 e l'89-91. Per nostra fortuna, non sulle nostre teste, in altri luoghi, ma... Però la differenza è che adesso, che c'è una guerra, perché continuamente, non si sa chi contro chi. Non si sa chi è leato e chi è nemico. Esatto, gli amici, certo. Voglio dire, l'Arabia Saudita è leate all'Occidente. Con la Turchia o con la Russia. Finanzia quelli che vengono a spargere la strada. E questa è veramente terribile, questa storia, perché all'orrore della guerra aumenta il caos. E questo è veramente tremendo. Sai, la guerra oltretutto ha sempre questo terribile potere di seduzione, perché promette sempre di essere l'ultima. Che poi, qualche volta, sia necessario farla. C'è poco da dire. La seconda guerra mondiale si sarebbe potuta evitare prima, perché l'unico modo di evitare la guerra è di non creare le condizioni che la rendono facile o inevitabile. Certamente, noi ci siamo disinteressati di una parte di mondo. Il nazismo è venuto al potere anche per tanti errori fatti. Però sta di fatto che a un certo punto, l'aveva ragione, Churchill, quando diceva che nel 1938 a Monaco le democrazie potevano scegliere fra il disonore e la guerra. Sceglisero il disonore, non per questo eviteranno la guerra. E la guerra contro la Germania nazista, per esempio, era necessario farla. Adesso stiamo scegliendo le problematiche legate al PIL dei paesi europei. Sì, certo. Adesso il problema è molto più complicato, più confuso, perché da una parte si sanno e si prendono in considerazione tante cose, poi non si sa niente. Perché se tu pensi, abbiamo una marea di informazioni, ma tanto per dirne una, di quello che veramente succede in Afghanistan, dove la guerra sta durando tre volte la seconda guerra mondiale, sappiamo poco o niente. Chi controlla veramente cosa, chi muore, chi controlla quella valle, chi controlla veramente il governo. E quindi è una... e contemporaneamente cresce la consapevolezza di problemi da prendere in considerazione, economici, sociali, politici. Insomma, in questo senso, io temo molto, naturalmente bisogna essere ottimisti con la volontà, però temo che fra dieci anni il mondo sarà peggiore. Eppure, eppure il passato non è stato migliore e qualcuno potrebbe dire Dio non ama meno questo tempo di quelli che l'hanno preceduto. Certamente. Ah, cioè, intanto io credo che nessuna nostalgia del passato, perché il passato è stato orrendo, ma basta pensare a quante categorie... No, tu l'hai attraversato anche il tuo romanzo, no? Di persone, sono state almeno prese in considerazione il riconoscimento della loro dignità, da questo punto di vista assolutamente. C'era quel cabaretista che era maestro di Brecht, ha detto una volta, una volta il futuro era migliore. Nel senso, la speranza di poter creare un futuro di pace. Ed è questa che è qui. Nessuna nostalgia del passato. Cioè, le magnifiche sorti progressive però non ci sono più. No, però nessuna nostalgia del passato che è stato veramente, in tante cose, orrendo, persecutorio, pieno di pregiudizi, di violenza, di così, no? Assolutamente. Nessuna nostalgia. Senti, sei riconosciuto come il più grande studioso della letteratura e della cultura mitteleuropea, quella lungo il corso del Danubio, che non a caso è il tuo romanzo più famoso finora. Questo è appena uscito, poi vediamo, ma va. Che cosa significa Europa oggi? Significa apertura a tutti con il rischio che ti freghino, cioè che ti tolgano il tuo. E nello stesso tempo aumentano però in questa Europa, che si chiude, aumentano i suicidi o per il non senso del vivere o per le banche? Ma qua c'è tutta una domanda da 100 milioni. Allora, io credo che, io sogno un momento che però si è allontanato ancora di più, in cui possa esistere uno Stato europeo. Perché credo che noi dovremmo vivere la nostra identità come le matriosche. Così come sono triestino o triestino-torinese e questo non è in contraddizione con il mio essere italiano. Così essere italiani ed europei, ma io sogno un momento in cui esiste uno Stato decentrato, federale, eccetera, ma con delle leggi cogenti per tutti. Esattamente come le regioni oggi rispetto allo Stato italiano, che hanno naturalmente l'autonomia, che hanno una competenza anche legislativa, ci sono leggi regionali, però non è che una regione, che so che la Venezia Giulia possa fare una legge che dice che le donne non possono andare a scuola, no? Perché arriva l'esercito. Allora, questo è molto difficile. Io credo, è quello che dico contro tutto quello che ho scritto per tutta una vita, perché il mio amore è per l'Europa centrale, l'Europa orientale. Ma credo che sarebbe stato meglio costruire un vero Stato, un vero Stato in cui io, tu, possiamo votare per un Presidente del Consiglio che si chiami Rossi, Weber, Dupont o come vuoi. Costruire uno Stato sulla base di quella che era l'idea primaria degli Stati fondatori e una volta costituito questo Stato ben preciso, accogliere agli altri Stati che liberamente vogliono aderire. Perché altrimenti, è come capisci, io dico sempre, quando Giulio Einaudi fonda la Casa di Trice nel 1933, non va Piazza Castello a Torino a dire alla gente, facciamo la Casa di Trice come vuoi, uno dice Romanzi Gialli, quell'altro testo di storia. C'è un progetto a cui poi si uniscono coloro che lo condividono. Bisogna far sparire sempre il principio di unanimità, che blocca tutto. L'unanimità poi non è democratica, perché l'unanimità è sempre quella falsa, finta dai regimi totalitari. Tu che la conosci bene, questa Europa orientale, questa Europa di confine, che è molto accusata oggi di chiusura, di razzismo, però sono quelli che sono stati più mescolati dai rivolgimenti della storia. Certo, ma vedi, io credo che questo atteggiamento particolarmente così duro, anche spiacevolissimo, a me fa impressione vedere i fili spinati, ma anche vicino a casa mia a Trieste, fra Slovenia. Guarda, la Slovenia si va in macchina come andare da Roma sui colli, ma che è sui colli, figurati. Tra Slovenia e Croazia vedere il filo spinato, dopo aver passato un'infanzia, adolescenza, in cui il confine vicino a Trieste e i fili spinati, che era invaricabile, perché era per molti anni il confine con la cortina di ferro, e così via. Però io credo che una ragione ci sia, che questi paesi, forse i lunghi anni in cui sono stati congelati nel mondo sovietico, adesso forse hanno ancora negativamente, perché io trovo che per esempio la Costituzione ungherese sia incompatibile con la Costituzione europea, tanto per dire non è, però credo che siano ancora troppo presi dei propri problemi per potersi veramente interessare ai problemi di questi dannati della terra che arrivano. Non è una giustificazione. Come se dicessero, abbiamo sofferto tanto, adesso lasciate l'espirare. Sì, capisci, non è una giustificazione, intendiamoci, ha fatto così, ma credo che possa essere una spiegazione. Poi sai, per tutti, perché il problema anche delle immigrazioni, se la si scontrano due aspetti. Uno è il rifiuto intollerabile, xenofobo, razzista, odioso, proprio piccolo, gretto. Poi ci può essere un giorno un problema di numero, che renda drammatico e tragico questo problema, perché se tutti i dannati della terra, che hanno esattamente il diritto di vivere come me, come te, ma arrivano in Italia, non c'è materialmente posto. Un ospedale che ha mille letti può, in momenti di emergenza, farne mille e cinque, ma non centomila. E proprio per questo aggiungere ai tremendi problemi reali che pone una immigrazione, che diventasse ancora numericamente problematica, aggiungere dei pregiudizi cretini, così come non bisogna naturalmente neanche cadere nell'opposto, nel buonismo, capisci? Io non ho mai capito perché si dovrebbe pensare, come penso adesso in Francia, che non bisognerebbe mostrare i presepi per non offendere i musulmani, e invece bisognava permettere a, come si chiama, Charlie, pace e l'anima sua, di poter offendere tutti facendo quelle sconsensi. Senti, tu sei sempre stato un uomo di sinistra, se questa definizione ha ancora un senso, perché già Gaber l'aveva descritto mirabilmente che ne aveva poco. Ecco, ecco, la sinistra ha avuto l'esclusivo dominio della cultura italiana per tanti anni. No, no. Beh, con il bollino dell'eccellenza, della moralità, insomma quella era la parte migliore, dai. Sì, ma guarda, adesso, intendiamoci, questo, però, e io non appartengo a questa, perché non appartengo affatto a questo tipo di sinistra. Perché tu hai avuto il coraggio, per esempio, quando c'è stata votata la legge sull'aborto, di scrivere editoriali che prendevano una posizione molto netta. Molto netta, certamente, come Bobbio del resto, che esiste. Bobbio prende la stessa posizione, in difesa semplicemente della vita dell'individuo. Certo. E questo è un principio generalizzato, insomma, che non dovrebbe avere a che fare con convinzioni religiose. Assolutamente no. Perché il problema è... E l'antropologia è sertoccata, non la fede in questo caso. E' logico, chiaro. Ma, vedi, però, bisognerebbe domandarsi, questa, in dubbia, così, supremazia, però gli altri sono stati incapaci, perché, intendiamoci, le grandi case editrici, la maggioranza non era di sinistra, parliamo degli anni 50-60, perché certo c'erano, mettiamo Inaudi, Metti Feltrinelli, e c'erano Ibonpiani, Mondadori, Rizzoli, Garzanti, i grandi giornali che facevano opinioni, non erano di sinistra. Allora, come mai... La cultura si fa nelle scuole, soprattutto, no? Nell'università. L'università, anche... Cioè, c'è stata una debolezza, una debolezza da parte... Perché, sai, chi ha, in qualche modo, stranamente, si è sentita in difficoltà, perché è vero che c'è stata, come prima c'era un'egemonia, in grosso modo crociana, tanto per intenderci, e così via. Liberale, certo. Sì, e poi c'è stata un'egemonia. Però, sarebbe interessante vedere perché, perché, tutto sommato, allora vuol dire che l'altra cultura... Non c'era. Era molto più debole, comunque. Ma io non sto neanche dicendo che sia un male. No, 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 ho capito. Dico che tu sei sempre stato abbastanza estraneo, poco organico, nonostante sei un uomo di sinistra, che hai fatto il senatore per un partito, fatto da te, però sei stato molto poco organico, no? Certamente, certamente, certamente. Peraltro, nonostante certe scelte, certe convinzioni, vadano al di là di un'appartenenza o di una decisione religiosa, è vero che tu ti sei definito un lettore appassionato delle scritture. Mi interessa il fatto che ci sono gli stessi che ti aiutano a capire il mondo, a capire veramente la vita. Credo veramente, come diceva il mio amico Cavallari, che la teologia e l'economia sono le due, non so se non scienze, che prendono alla gola la vita dei suoi aspetti essenziali. E avere ragione. In questo lego molto. Quali sono gli aspetti essenziali della vita? Beh, quello che significa il rapporto con gli altri, il coraggio e la paura di morire, l'amore, l'eros, il dolore, il piacere, queste cose ultime, insomma, no? Insomma, c'è poco da dire. Insomma, ci sono... E in questo senso devo dire che mi è sempre spiaciuto che spesso la Chiesa, che è notevolissima a livello alto dell'esposizione del suo pensiero, delle sue verità, chiamala come vuoi, sia debole nell'esposizione media, nella divulgazione, che è importantissima. Io ho sempre creduto molto nei bignami, perché la nostra cultura, tranne quella piccolissima parte che possiamo eventualmente studiare originalmente, è fatta di cose di secondo o terza mano, no? Quello che io so della storia, ma anche d'Inghilterra, non è frutto di mie ricerche. È importante, però, che io abbia letto dei libri di divulgazione buoni, che mi diano, naturalmente, in modo più superficiale, ma il senso di quello che è la storia di Inghilterra. E purtroppo, spesso, la Chiesa, che avrebbe un potenziale enorme liberatorio, non riesce a mutuarlo. Per esempio, pochissimi, abbiamo fatto sempre impressione, mi ha tanto aiutato, che la Chiesa considera una cosa negativa avere rispetti umani. Avere i rispetti umani. Che vuol dire essere intimiditi, vuol dire sia aver paura di farsi il segno della croce se sei in mezzo a gente che non se lo fa, o anche non farcelo se sei in mezzo. Ora, questo è un potenziale liberatorio. Mi ricordo, ai miei tempi mi avevano estilato, i rispetti umani sono, non dico che sia una colpa adesso, però, insomma, è una cosa indubbiamente da non fare. Nessuno lo sa. Nessuno lo sa. Oppure, certo cosa, pensa... Però per rispetto umano, tu non faresti a meno di fare presepe? No, certo che no. Perché presepe non offende nessuno. Esattamente come il fazzoletto che una donna musulmana porta in testa non mi offende. C'è la legge che dice che nessuno può andare con la faccia... Totalmente coppia. Ma neanche vestito da clown, perché se io mi dipingessi di bianco, neanche tu mi riconosceresti. No, assolutamente. Ma tante cose in questo senso. Vedi, l'aspetto liberatorio è... Pensa a quella bellissima frase di Chesterton, quando dice se non si crede in Dio, il guaio non è, come dicono tanti preti, che si finisce per non credere a niente, che sarebbe forse un vantaggio, è che si finisce per credere a tutto. E essere soggetto ad altri poteri. Soggetto ad altri poteri, certo. e purtroppo questo non c'è una certa... E quindi io leggo molto, sì, questo mi interessa molto, è una chiave, sai, in questo... L'ho trovata qua, a parte che ho capito che ti piace la parola metanoia, che lo metti in bocca. Certo, sì, certo. È dolce anche come suono. Sì, e poi è questo, perché io credo... È uno sforzo di cambiare. Lo sforzo è sbagliato. No, non è sforzo. Desiderio di cambiare. È il cambiamento proprio, è che tu cambi, insomma, ti senti questo. Il cambiamento che non significa rinnegare, che non significa che tu diventi un altro, non è una metamorfosi, è che riesci a essere quello che sei, ma in un modo libero e non schiavo. Aspettiamo sempre qualcosa, è una citazione che potrebbe essere di molti, però il senso dell'attesa, non solo di quello che succede, ma di quello che può essere il domani, c'è fortissimo. Si aspetta per avere o per trovare? Sì, ma io sai, si aspetta. Qualche volta mi domando se è proprio la... qualche volta l'urgenza terribile dei problemi, perché sai, io vivo in una condizione privilegiata, no? Non sono costretto a cercare affannosamente il pane per me o per la mia famiglia e quindi è anche molto più facile per me o per gente come me. Una cosa che per esempio, tra le tante cose mi ha... una piccolissima cosa conquistato del Papa Francesco, una piccolissima cosa, che non è l'unica per... Una volta ho ricevuto, non so, stranamente, perché da una casa editrice spagnola, in spagnolo, le bozze di un libro di Bergoglio, che è un suo commento, in spagnolo ovviamente... Prima che diventasse bambino? Sì, sì, prima, prima. Ma io l'ho avuto dopo, insomma. Sì, sì. Agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. Devo dire, non è una cosa che mi interessi moltissimo, ma quello che mi ha colpito, ed è questo, è che è la pagina, la prima pagina, in cui uno mette o la dedica, dove mette, come si dice, oppure una frase che dovrebbe... Che gli piace. E lui mette due frasi, una che non sono in grado di ripetere, perché è una mesastrofa di una canzone occitanica, e l'altra dice, l'ultimo pezzo alle montagne, che lo figuriscono di rose e fiori, che è il capitano della compagnia, che l'hai finito e sta per morire. Tristissimo canto alpino. Beh, però gagliardo anche, perché c'è questo senso proprio appunto... Gli alpini erano tutti gagliardi. Sì, ma l'ultimo pezzo alle montagne... Ora, questo io trovo... Capisci? E questo, e questo purtroppo passa poco. Questa umanità qui? Questa umanità qui è molto raramente unita al messaggio cristiano. Non c'è nulla di eroico, però è questo, capisci? E questo, non ancora Papa, ma già figura di rilievo. Cioè l'amore alla realtà anche, no? Alle cose. Sì, l'amore così, alla vita, insomma, al fiore. Agli ideali, ai fiore. Sì, ma non solo agli ideali, ma proprio al gioco. Ai fiori. Al gioco, al fiore, al bicchiere di vino. Insomma, questo è solo il vivere, non questo. Comunque, hai mai visto forse questo? Sarà per ragioni di età, ma il versetto che mi trova più, che mi viene in mente più spesso, adesso è il finale, la penultima frase del Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice a Pietro, quando eri giovane, ti cingevi da solo la cintura, andavi dove volete. Ma quando sarei vecchio, ci dicono che l'età in realtà serve per migliorare, diventare più saggi, non ne sono così convinta, però ce lo ripetono in tanti, quindi ci sarà una motivazione vera. Sì, ma come sempre tutto, qualcosa si perde, qualcosa si guadagna, certamente, però si perde. Se dobbiamo mettere una sigla a questa nostra chiacchierata, la musica te la scegli tu, che scegliamo? Un canto alpino? Cos'è molto, o un negro spirituals, che hai raccontato? Sometimes I feel like a motherless child, che è quello che credo che Pasolini abbia messo nel Vangelo, durante la, durante la, o Crucipissione, o Via Cruci, forse Via Cruci, se non ricordo mai, però ce ne sarebbero anche molte, anche molte, anche io. Teniamoci questa. Grazie, professore, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.